Stai terminando la scuola media? Sei indeciso su cosa fare il prossimo anno? Benvenuto e benvenuto a Special Orientamento, una serie di video informativi per aiutarti a scegliere la scuola secondaria di secondo grado. Oggi parleremo dell'offerta formativa degli istituti professionali. Attenzione, istituti professionali, quindi non agenzie di istruzione e formazione professionale, di competenza regionale, che offrono percorsi di qualifica della durata di tre anni ed eventuali diploma professionale, il cosiddetto quarto anno, a cui dedicheremo degli specifici video. Per gli istituti professionali la durata del percorso è di cinque anni, articolati in un biegno e in un successivo triennio. Il titolo di studio rilasciato è, dopo il superamento dell'esame di stato, un diploma di istruzione professionale con specificato l'indirizzo e l'indicazione del codice ateico attribuito a quell'indirizzo. Nota bene, alcuni istituti professionali possono anche rilasciare la qualifica professionale triennale da operatore. Questo può avvenire attraverso due modalità, realizzando il percorso triennale al loro interno o effettuando delle attività integrative per preparare gli allievi che ne facciano richiesta ad ottenere i crediti necessari per l'accesso all'esame di qualifica regionale triennale da operatore. Per avere le informazioni su quali istituti erogano percorsi di qualifica o effettuano interventi integrati è necessario contattare la singola istituzione scolastica o verificare sul loro sito. Parliamo ora dell'offerta formativa. L'offerta formativa dei percorsi di istruzione professionale comprende attività ed insegnamenti di istruzione generale comuni a tutti i percorsi che hanno l'obiettivo di fornire una preparazione di base e attività ed insegnamenti di indirizzo presenti fin dal primo bienio che consentono agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessarie ad assumere ruoli tecnici e operativi nei settori produttivi e dei servizi. È molto importante sapere che ogni istituto ha la possibilità di modificare in modo autonomo una percentuale dell'orario scolastico. Questo significa che l'offerta di istituti con lo stesso percorso di studi può essere diversa perché ciascuno di loro può decidere in parte come declinare il percorso introducendo insegnamenti alternativi o potenziando alcune materie. Per avere informazioni dettagliate è bene contattare direttamente i singoli istituti o verificare sul loro sito. Scegliere un percorso di istruzione professionale significa scegliere tra dieci possibili percorsi. Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione del territorio e gestione delle risorse forestali e montane, industria e artigianato per il made in Italy, manutenzione e assistenza tecnica, gestione delle acque e rissanamento ambientale, servizi commerciali, enogastronomia e ospitalità alberghiera, servizi culturali e dello spettacolo, servizi per la sanità e l'assistenza sociale, arti ausiliarie delle professioni sanitarie o donto tecnico, arti ausiliarie delle professioni sanitarie ottico. Per ciascuno di questi percorsi sarà dedicato uno specifico video. Ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato, iscriviti al mio canale se non l'hai ancora fatto per essere sempre aggiornato e aggiornato, visita il mio blog cliccando il link nella descrizione e segui Sento che posso su Facebook, Instagram, Twitter dove ogni giorno posto contenuti sul metodo di studio, sull'apprendimento, sull'imparare ad imparare, sull'orientamento e sui rapporti scuola-famiglia. Io sono Doriana Bertolotto, formatrice, orientatrice, esperta di processi di apprendimento e ideatrice di Sento che posso. Continua a seguirmi. Ciao!